Una cerimonia da parte dell'AMPI per la memoria, per non dimenticare due caduti civita vecchiesi vittime alle fosse Ardiatene. Allora, di che iniziativa si tratta? Ne parliamo con il presidente dell'AMPI di Civita Vecchia, Giorgio Gargiullo. Allora, qual è questa iniziativa? Bene, domani esporremo una targa, in ricordo, in memoria di questi due civita vecchiesi assassinati dai nazifascisti alle fosse Ardiatene. Credo che sia una cosa importante perché Civita Vecchia deve ricordare questi martiri perché perdere la memoria, come è scritto sulla nostra locandina e sulla targa stessa, perdere la memoria significa ucciderli un'altra volta. Quindi credo che la città deve fare del tutto per ricordare quei martiri e deve fare del tutto per ricordare quello che non deve più assolutamente ripetersi. A che ora e in che luogo si svolgerà la cerimonia? La cerimonia si svolgerà presso il Parco della Resistenza alle ore 16 e 30, dove verrà montata, verrà messa questa targa, il ricordo di Antonio Margioni e di Aldo Francesco Chiricozzi, due celevecchiesi che subirono la morte presso le fosse Ardiatine. La targa che poniamo domani è provvisoria perché noi avremmo voluto metterla al viale. Le lungaggini burocratiche, nonostante l'impegno dell'amministrazione, ci hanno portato intanto a porla al Parco della Resistenza. Speriamo che entro un paio di mesi, tre mesi, possiamo metterla definitivamente al viale perché credo che questi due martiri meritino questo tipo di riconoscimento, questo tipo di miseria. Devo dire un'ultimissima cosa, noi riteniamo che il nostro impegno, tra le varie cose che stiamo facendo, deve svilupparsi nel riconoscimento di tutte quelle persone, di tutti quegli civili avvecchiesi che in qualche modo sono caduti o comunque si sono sacrificati per portare nel nostro paese la democrazia e la libertà. Quindi è un riconoscimento che noi dobbiamo dargli fino in fondo.